Le mie attitudini... Ma quali attitudini?! Diciamo che ha finito. Finito... finito? Cavolo Mario, però... Con un solo stipendio non ce la faremo? Ce la faremo, te lo prometto. Si tratta di un sequestro record, almeno in questo territorio. Io ho bisogno di fare un trasporto... Un furto. Un furto? No, non è un furto. È una sostituzione. Ci serve un carro funebre... e qualche bar. E ci sarebbe bisogno anche di una donna, oltre che di un'auto funebre. Quanti lo guadagno? 100. 100 franchi? 100 mila. Forse anche 200 mila. Ho una proposta da farti. Possiamo fare un sacco di soldi. Facendo cosa? Oggi possiamo prendere in mano il nostro destino. E insieme formiamo una squadra. La prossima volta la pupa rimane a casa. Se avessi soldi per una babysitter non sarei qui. Ognuno di noi avrà un compito. E il piano riuscirà solo se ognuno di noi farà il meglio di sé. Andiamo? Sono un ingegnere! Tu mi dici la verità e poi io mi calmo, forse. Eccomi. È il cielo che vi manda. Ottimo. Bloccati da un banale lucchetto. Il professore. Non c'è serratura che possa resistere. Buonasera, professore. Possiamo andare. Buonasera. 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 Buonasera.